partirà la distribuzione dei buoni alimentari, siamo in condizioni di poterlo fare, abbiamo recuperato per quanto possibile i ritardatari, coloro che non avevano fino a questo momento fatto una domanda corretta, quindi anche su questo fronte che è quello dell'aiuto ai nostri cittadini meno fortunati siamo in grado di dare risposte rapidamente. Al via la distribuzione dei buoni alimentari per le famiglie in difficoltà a causa dell'emergenza Covid-19 anche nel comune di Arezzo, ad annunciarlo dopo qualche giorno di attesa è stato il primo cittadino Alessandro Ghinelli. Gli uffici in questi giorni hanno infatti lavorato sulle oltre 3.000 domande arrivate in comune entro lo scorso 10 aprile che dopo un'attenta verifica sono scese a 2.500, un numero che comprende anche quelle incomplete e i non residenti. Sempre il sindaco Ghinelli ha infine annunciato anche lo sblocco dei cantieri stradali che sino ad oggi erano rimasti stand-by a causa del virus. Che consentiranno di fare, tempo permettendo ovviamente, lavorazioni sui manti stradali di via Calamandrei, della pista ciclabile in via Benedetto da Maiano, del prolungamento della tangenziale tra la via di Santa Margherita e via Bonconte da Montefeltro, realizzare il pezzo di strada Ricutino che noi conosciamo come C47, una vecchia lottizzazione di cui i lavori erano rimasti bloccati e una riasfaltatura sistemica in via Romana, nella parte che va dalla sella fino al grosso modo al TOIS, tanto per capirsi. Sono lavori che vengono sbloccati perché? C'è il concorso di varie condizioni favorevoli. La prima è che i codici delle aziende che lavorano in ambito stradale sono ricompresi tra i codici che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, anzi il Ministero per le Attività Produttive ha inserito nell'elenco codice ATECO consentiti per la riapertura dei lavori e sono numerosissimi. Quindi presenza di codice che consente la lavorazione, presenza di piani di sicurezza che prevedono la separazione, e quindi l'assenza di contagio, ma terzo e non secondario fatto, il fatto che si sta andando verso una riduzione generalizzata dei contagi. Quindi siamo in grado di poter far partire queste attività. Tenete conto che alcune delle aziende che lavorano a livello stradale sono aziende locali, quindi stiamo direttamente facendo ripartire una parte, seppur modesta, seppur limitata, di attività che possa produrre reddito. Questo è fondamentale per l'avvio della fase 2, che non è di fatto ancora iniziata, però ne facciamo alcune prefigurazioni laddove possibile e credo che questo sia un bel segnale che diamo ai nostri operatori.